Il piazzale d'Annunzio ha pochissimi giorni di vita, però ha già vissuto diversi appuntamenti di intrattenimento per grandi, per bambini. Un primo bilancio su questi giorni? Siamo abbastanza soddisfatti, siamo partiti il 7 di agosto un po' in maniera roccambolesca con questa piazza, che però da subito è stata molto apprezzata, soprattutto dai turisti, ma anche dai residenti qui di zona di Levante. Siamo partiti di corsa con le prime proiezioni di cinema d'animazione per ragazzi, continueremo tutti i venerdì di agosto fino al primo di settembre, mentre il mercoledì avremo l'animazione per bambini con Pesaro Village, e oltre a questo il giovedì sera con Gymnal per la Baby Dance e l'attività di ginnastica per ragazzi e bambini. Come associazione albergatori promuoviamo anche altre iniziative dalla mattina, il pomeriggio e la sera, quindi noi partiamo dalla mattina alle 8 con il risveglio muscolare, che stiamo vedendo quest'anno è molto apprezzato, dalle 8 alle 9 di mattina, al pomeriggio dalle 17.30 alle 19 abbiamo invece attività di laboratori e ludico-ricreative per i bambini, e stiamo anche qui riscontrando un buon successo, quindi ci auguriamo che nelle prossime giornate migliori e aumenti l'affluenza per dare il meglio in queste giornate di agosto. Ci auguriamo che questo anche per il prossimo anno possa diventare con gli opportuni modalità e tempistiche anche una vera e propria programmazione estiva che vada da giugno a settembre.